La città calda in termini politici è anche quella di Chieti, lei ultimamente si è espresso proprio contro Mauro Febbo addirittura volendo le sue dimissioni, prima l'autosospensione, adesso delle dichiarazioni anche da parte di Zappacosta. Io non mi esprimo mai contro nessuno, è Forza Italia che ha un atteggiamento di rottura nei confronti della coalizione che storicamente ci ha rappresentato negli ultimi 20 anni, quindi è una domanda che andrebbe fatta a Forza Italia e a Mauro Febbo. Noi della coerenza abbiamo sempre fatto un valore e una bandiera di riferimento, prendiamo atto che Forza Italia ha tradito il patto di coalizione. Anche nel caso specifico di Avezzano è un atteggiamento incomprensibile e quindi non posso che richiamare al voto utile perché credo che il centrodestra debba vincere queste elezioni per battere le sinistre e il voto utile sta nel fatto che bisogna far comprendere agli elettori che ogni voto dato all'Ataccone o a Forza Italia è un voto dato a Di Pangrazio e a Babbo, quindi il voto utile, l'unico voto utile per cambiare la storia di questa città è il voto sulla coalizione centrodestra.